È questione di giorni e poi il vaccino anti-influenzale sarà disponibile per essere somministrato anche nelle farmacie. È operativo il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni, Federfarm e Assofarm per la somministrazione dei vaccini nelle farmacie che aderiranno. Un ulteriore riconoscimento al ruolo del farmacista che è stato essenziale anche nella campagna vaccinazione anti-Covid. Il vaccino potrà essere somministrato anche ai cittadini da 18 anni in su che daranno il consenso. Le prenotazioni e l'esecuzione saranno eseguite prima a coloro che hanno diritto alla vaccinazione gratuita e cioè agli oversi stanti ai fragili, ma le farmacie potranno vaccinare anche coloro che non rientrano in tali categorie purché maggiorenni sarà necessario per i farmacisti somministratori un corso dell'Istituto Superiore di Sanità. È un ulteriore traguardo, è un ulteriore attestato, è un ulteriore scommessa che le farmacie hanno buttato sul campo, ma non perché debbono dimostrare di essere valide e di avere i propri ruoli e funzioni sotto il profilo sanitario, ma perché effettivamente i fatti hanno dato ragione a un sistema di farmacie che è un sistema che di fatto esalta il binomio tra farmacista e cittadino per quanto riguarda la fiducia reciproca. Ad ogni farmacia sarà riconosciuto un contributo di 6 euro per ogni vaccino a persone che hanno diritto alla somministrazione gratis. Chi non ha diritto dovrà pagare in farmacia 6 euro per la somministrazione più il costo di acquisto del vaccino. Questo potrà essere fatto in loco, ma anche acquistato e fatto fare dai medici di famiglia ad esempio. Adesso si sta parando, sta partendo il secondo corso, questi giorni proprio, con l'Istituto Superiore di Sanità per la vaccinazione antifluenzale, quindi anche in farmacia le categorie deboli possono essere vaccinate a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per le categorie che non rientrano e quindi per tutti gli altri cittadini da 18 anni in sopra possono accedere al vaccino sia essere vaccinati in farmacia con l'onere previsto dal protocollo oppure possono acquistare semplicemente il vaccino e recarsi presso il proprio medico di base o presso gli infermieri o presso tutti gli operatori sanitari abilitati per essere vaccinati. Di fatto c'è un'estensione generale, una possibilità generale di potersi vaccinare contro l'influenza.